Stasera vogliamo raccontare una storia, una storia che forse è la più bella storia musicale da raccontare per quanto riguarda la musica pop rock, una storia che veramente assomiglia a un romanzo antico quasi di passioni e soprattutto di ambizioni perché questo è il punto. Nessuno era arrivato a sognare viaggi intergalattici come quelli che avevano sognato i Pink Floyd. Alla fine la verità è che questo pezzo è un pezzo che si è trasformato nel tempo. Che arrivò in studio una cantante, una turnista, la chiamano, lei arriva e succede qualcosa, delle cose che scattano ogni tanto, accade l'imprevedibile, cioè lei le chiedono di andare di voce liberamente come fosse uno strumento, come fosse un'improvvisa. E' effettivamente improvvisa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.